...e che è riuscito a fare opere importanti con misure piccole che poi è diventato un po' il modello del palladianesimo eccetera eccetera e lui è bravo a questa cosa perché i suoi committenti erano nobili erano nobili agricoltori quindi non il papa, non l'imperatore e non il re per cui i suoi committenti dicevano fammi una cosa del mio status però che non mi manda in default perché poi si deve fare il dual use di cottura, di scienza lui è stata quella della paura del palladio che poi è diventato un muro